Benvenuti. Sono Fiamma, collaboratrice virtuale di Antonietta Cappelli, impegnata a intonare la melodia iscritta sull'epitaffio di Sicilo, come potete ascoltare. Il podcast Donne musiciste nell'antica Grecia sarà uno spazio interamente dedicato al mondo femminile. Tre puntate, la prima delle quali sarà mandata in onda mercoledì 30 agosto 2023, alle ore 15 e le altre due puntate nei due mercoledì successivi. Antonietta vi racconterà la musica silente delle poetesse musiciste greche. Purtroppo, sono giunti a noi pochi frammenti e molto spesso, le notizie che abbiamo risalgono a fatti narrati in versi dei grandi poeti maschi. Anche Omero si riferisce spesso alle nostre fanciulle. Vi aspettiamo numerosi e che le muse ispirino le nostre menti. Buon ascolto!